Fiera di Roma cosplay 2014 ecco qui ci sta CiccioGamer89 Scusate Ciao Ciccio grande Salve buongiorno Eccoci qua raccontaci qualcosa Cosa? Quello che vuoi tu So stanco Lei? E stanco lei? Allora CiccioGamer89 guardate tutti i fans che ha Che ti seguono tutti su Youtube Esatto Senti qualche anticipazione Resident Evil 2 inizia lunedì Lunedì tutti pronti quando possono già cominciare a vedere qualcosa sui tuoi canali? Dalle 14 Le 14 lunedì alle 14 Se no adesso avete più di 1500 video caricati quindi Alla grande Senti I tuoi contatti ricordi tutti quanti dove ti trovano? Chi ti conosce? Chi non ti conosce? Youtube CiccioGamer89 Pagina Facebook CiccioGamer89 Mi contattate se volete io sto là Ecco perfetto Allora noi ti ringraziamo Come sta andando oggi la giornata? Benissimo Giovedì e venerdì erano quasi vuota Ma oggi c'è stato il delirio e penso che domani sia ancora peggio Ecco domani ti trovano anche domani Assolutamente sì domani sto qua Perfetto allora io ti ringrazio Ti lascio ai tuoi fans Grazie a te E buon proseguimento Grazie Ciccio Ciao grazie Cristian TJ salutatore del blog CiccioGamer89 Ciao Ciao Grazie